Last Christmas in realtà si sarebbe dovuto chiamare Last Summer Last Easter Last Winter Last Minute Pensaci bene E mettiti in mezzo Mettiti in mezzo Ma l'ho sentito l'ultimo Last Minute Last Minute? Sì La prima, la uno Last Summer E la risposta, bravo È Sbagliata La risposta esatta era Last Easter Andiamo da Camela Allora, siccome questa cosa l'ho fatta anch'io C'è un'irregolarità I ragazzi stanno attaccati È vero, è vero Dovete stare in mezzo Marco Ma perché non ti fai la risposta? Andiamo da Camela Sì Ha una statua nel Museo delle Cere di Londra Orietta Berti Marco Mengoni Elettro Lamborghini Albano Elettro Lamborghini Hai detto Albano? No Albano, hai detto Albano Hai detto Elettro Lamborghini? Sì E la risposta è Esatta Esatta Ciao 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 Grazie electric votare Grazie a tutti